Il treno regionale 32 6 2 7 di Trenitalia proveniente da Firenze Santa Maria Novella è diretto a Follonica delle ore 10 e 57 e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Vincenzo Campiglia Marittima. Ferma a San Vincenzo Campiglia. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.